Che vuoi? Maria De Filippi e il bacio galeotto di Stash dei Tecolors Il leader dei Tecolors si lascia immortalare mentre bacia la statuetta di Maria De Filippi. . Da qualche mese su Instagram i followers possono fare le domande a coloro che seguono. Nella giornata di ieri i seguaci di Stash dei Tecolors ha risposto ad un interrogativo che riguarda Maria De Filippi. . Il solista della band diventata popolare ad Amici ha spiazzato tutti con una foto e un'inaspettata dichiarazione. Andiamo a vedere cosa ha detto su Maria De Filippi. C'è una persona che non finirete mai di ringraziare?. Stash e il ringraziamento alla De Filippi. . E questo l'interrogativo che Stash ha ricevuto sul suo profilo Instagram. Il 29enne che è nato e cresciuto nel capoluogo Campano, ha affermato che la persona che non finirà mai di ringraziare è Maria De Filippi, la regina della televisione italiana. . Ricordiamo che Stash e la sua band Tecolors, partecipò al talent show Amici nel 2015. . Dopo la loro vittoria sono diventati uno dei gruppi più popolari del panorama musicale del nostro paese. Il ragazzo ha voluto così ringraziare Maria De Filippi per l'opportunità che gli ha dato nella sua trasmissione. Stash e il bacio alla De Filippi. . Su Instagram, Stash ha postato uno scatto davvero particolare. Nell'immagine si vede il leader dei Tecolors mentre bacia Maria De Filippi. . Tranquilli, si tratta solo di una statuina in legno realizzata a Napoli. Precisamente il 29enne ha realizzato la foto mentre si trovava in via San Gregorio Armeno, il quartiere dei presepi. . Cosa ne penserà la diretta interessata della dedica di Stash? Arriverà la replica di Maria De Filippi? Ecco lo scatto in questione. . 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 Ciao